Mio padrone, è andato tutto a puttane. Il campo da skate che le ho raccomandato è una trappola di sbirri, non c'è nessun forziere fantasma. La missione speciale è andata a puttane. Sarà rimandata quando capirò meglio le cose. La prego non mi picchi, non ci ho potuto fare niente. La missione si chiama Chi si ferma è perduto. Dovrete resistere il più possibile sul posto per poi eventualmente fuggire. La sua squadra è composta da lei, Greengram, Bygoz, Gobez, e altri due adepti. In altri termini, dovrete resistere come carni imbastardite o sarete fottuti. A tutte le unità, inculateli con la sabbia a fine fine di questo deserto del cazzo. Vi prego, inculateli, oppure sarò io ad essere inculato. Vi prechi. Molto bene, vedo che dopo l'ultima volta ci pensi due volte prima di farmi entrare in azione. Che cazzo di posto è questo? Oh, minchia, che palle. Non so. Si può fottere sto camion? Ok, non c'è più la polizia, quindi adesso possiamo ragionare. Minchia, qua si può resistere, cazzo. Sì, appena arrivo agli elicontri, vedrai che casino. Allora, aspetta, Dani, aspetta, Green. Gli hai fatto cadere la bibita. Allora, dovete venire tutti qua. È la pista da skateboard. Ah, io mi sono fatto. Raga, tutti alla pista da skateboard. Dai, Dani, non seguirli, basta. Sì, Dani, Green. Continua avanti avanti. Porca puttana. Ho ammazzato il motociclista come se niente fosse. Oh, raga, tutti qua, dai. Ah, sì? Abbiamo con i coltelli. Abbiamo anche una macchina per scappare qua in caso di emergenza. Macchina. La mettiamo subito dritta in posizione. La mettiamo qua così Ok Possiamo resistere qua così Dovete venire tutti qua però Ne manca uno che è lontanissimo E in questa avventura chi muore Non deve rompere i coglioni finchè non muoiono tutti Capito? Quindi dovete isolarvi Una volta morti non dovete interferire più Quei piani ok? Cazzo avete portato qua gli sbirri Aprire il fuoco Jamie Axie Cazzo guarda Grimadonna Perché se siamo in 4 non in 6? Vabbè voi due se ci arrivate bene Sennò cazzo i vostri Ma che cazzo fate? Coglioni State ad un'adeguata distanza Grim puoi tornare Sì ma grazie Mi porta anche il regatore ma rimane un cazzo Buttate giù l'elicottero No che cazzo fa il mio personaggio Sali su Porca Eva Raga occhio non Minchia ci sono le cisterne Ma che cazzo fa l'elicottero Si teletrasporta Esatto Esatto Sto venendo Esplodendo tutto Raga buttate giù gli elicotteri Via per ricaricare Grim dove sei? Oh eccomi Oh cazzo Sto qua Ah ecco Cazzo Guarda che ricorda camion Caricatore Madonna Che cazzo di fronte che abbiamo creato Minchia L'elicottero dietro raga L'elicottero dietro Vai L'ho buttato giù L'ho buttato giù Dai c'è quello stronzo L'acro non crepa Perfetto Dai raga Dai Se morite sono cazzo i vostri Non potete più partire Dovete aspettare che muoiono tutti Elicottero Elicottero Guarda elicottero Nooo No dove deve essere vicino Vanno ricarico No che cazzo è successo lì Mi ha votato il cregato E' vuoto infatti Chi è che è morto lì? Io Ok ora rimani lontano Finchè non finiamo Eh Cazzo ci sono le macchine Che si teletrasportano però Raga il mio trend Granate Oh che cazzo è che mi spara? Ma dove siete tutti? I granati? Granate Buttate le granate Tutte quelle che avete Cazzo Micchia Cazzo sparate Ma dove cazzo siete? Sì ma non puoi tornare Perché sei morto Quindi vieni qua cazzo Ti sto guardando col telescopio Elicottero Elicotteri In che senso sono morto Non posso più tornare Appena moriamo tutto Appena moriamo tutti Puoi tornare Probabilmente non ammazzarci Ah qualsiasi Tutto apposta Dietro Guarda che Elicottero Sparra Elicottero Guarda Cazzo Cazzo La stanno due D'elicotteri Sì perché è arrivato Quei cretino di Dani Mi ha fatto spostare di posto E giustamente Quella è rimasto fregato Non è così È rimasto fregato Dani viene a fregato un cazzo L'importante è che lui si salva L'ha chiuso Vieni la faccia Via i coglioni Questa qui è il piano Questo che è il piano di fuga Nani Svuota il caricatore Anziché rompere il coglione Mentre l'elicotteri Figa Cosa svuota Cratino Che se non stai Fermano l'inquadro Ah cazzo C'ha gli sbirri Gli sbirri Ce li abbiamo addosso Via dall'autostrada Via Svuotare i caricatori No cazzo La ruota Merda Uh Ho tenuto la strada Non so come Cazzo C'è un elicottero Che Raga dove mi consigliate Di scappare Lontana da qui Lontana da le stelle Merda No Figlio di puttana Via dai coglioni Parti Parti Svuotate i caricatori Che cazzo fa Dani No Ha voluto regolare i conti Per strada Iperstrada Crefato subito Ma perché Dani Non c'ha più visto Perché Continua a svuotare Luzi Oddio Che cazzo hai fatto fare L'elicottero Grip Io gli lascio le granate Per terra Grip Allora 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 Grip Che cosa proponi Merda Merda Figlio di puttana Cazzo Via Grip Suota tutto Quello che hai Dai che le hai buttato La bomba lì Ma perché non è esploso Oddio Ma perché mi stai Seguendo La macchina Grino Non so cosa devo fare Grin Merda C'hanno il posto Di blocco Vai con i panetti Vai Eh ho capito Sinistra Sinistra No Si è girato L'auto Cazzo Via 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 Cazzo Hai fatto esplodere tutto La dietro Cazzo Vai Ho fatto saltare Anch'io qualcosa Merda Merda Cazzo Dai che mi riprendo La marcia Dai Cazzo Non si muove più Scendi No Cazzo Non si muove più Scendi No Si era incastrata nel palo Cazzo Si era incastrata nel palo Caduto Io non ci credo Guarda sulla marcia Di che io non ci sono Ti ho invitato Perché cazzo In mezzo ai cespugli Aspetta Porca pazzana Aprile il fuoco Gry Logo di rientro No Gry guarda Granata gas Madonna Gli ho stanati Gobbetti Vieni qua Gobbetti Oddio Io sto resistendo Gry Io no Perché l'elicottero è caduto giù No Cazzo deve invitare Per chi? Perché mi ha buttato fuori No Sono morto Ho rotto il cazzo La rockstar di merda Ehm 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 La merda